Cosa sono i Topic con RabbitMQ? Ciao, io sono Michele e in questo video analizziamo nel dettaglio che cosa sono i Topic e a che cosa servono con RabbitMQ. I Topic e i RabbitMQ ci permettono di gestire degli scenari abbastanza avanzati per quanto riguarda l'instradamento dei messaggi basati su determinate regole o in particolare su determinati pattern. Quindi noi possiamo caratterizzare i nostri messaggi con quella che è una Routing Key che dà delle informazioni di instradamento sui nostri messaggi per arrivare ai consumatori più opportuni. Come funziona tutto ciò? Come lo dobbiamo configurare? Allora innanzitutto se non hai visto gli altri video su RabbitMQ ti consiglio di andarli a recuperare così vedi i concetti di base soprattutto nel primo video della playlist. Quello che noi dobbiamo configurare è un Exchange di tipo Topic. Negli esercizi precedenti abbiamo utilizzato il Fanout, il Direct, ma hanno delle limitazioni, non riescono a implementare il modello a Topic. Per questo è stato appunto creato il modello, la tipologia Topic di Exchange che permette di essere configurata e instradare i messaggi con dei pattern, con delle regole. In questo caso utilizziamo la Routing Key. Si utilizza il parametro Routing Key che è appunto questo parametro che descrive l'instradamento del messaggio che non è nient'altro che una stringa di testo completamente arbitraria separata da punti. Questa è l'unica regola. Quindi possiamo immaginare per esempio un qualcosa come Animale.Colore.Velocità Oppure un Marca.Modello.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore.Colore le caratteri jolly, quali l'asterisco e il cancelletto, possono ricevere i messaggi a cui sono interessati. Con l'asterisco si va a mettere un placeholder che ci dice una qualunque parola e il cancelletto dice zero o più parole al mio posto. Quindi, ho detto tanto, per fare più chiarezza facciamo un disegno sulla whiteboard e poi andiamo a vedere il programma in esecuzione e quindi le righe di codice. Allora, eccoci qua, facciamo un esempio di topic. Il topic quindi è una stringa di testo che deve rispettare certe regole. Quindi può essere un qualunque testo a piacere ma deve avere dei punti. Quindi sostanzialmente una lista di parole separata da punti che di solito definiscono un argomento o dei segmenti di un determinato argomento. Quindi qui per esempio siamo nell'ambito automotive, automobili e abbiamo, decidiamo di utilizzare marca, punto, modello, punto, colore come pattern per i nostri topic. Allora, eccoci qua, facciamo un esempio di topic. Il topic quindi è una stringa che però deve, di testo, che deve rispettare certe regole. Quindi può essere un qualunque testo a piacere ma deve avere dei punti. Quindi sostanzialmente una lista di parole separata da punti che di solito definiscono un argomento o dei segmenti di un determinato argomento. Quindi qui per esempio siamo nell'ambito automotive, automobili e abbiamo, decidiamo di utilizzare marca, punto, modello, punto, colore come pattern per i nostri topic. Eccoci qui, allora, ho qui sulla sinistra il produttore e qui sulla destra ho due subscriber, due consumatori. Faccio partire .NET Run e questo mi chiede la routine key, cioè sto mandando un messaggio che riguarda chi marca, modello, colore. Di qua predispongo, faccio un .NET Run e predispongo il primo ascoltatore e gli metto, dicevamo, guardando la lavagna, Giulia. Quindi asterisco, punto Giulia, Giulia, punto asterisco. A questo invece gli vado a dire che voglio sapere tutto delle macchine rosse. Asterisco, faccio partire prima di tutto. Andiamo a vedere conferma. Asterisco, punto, asterisco, punto, rossa, virgola e Ferrari, punto, cancelletto. Sto dicendo che voglio sapere tutte le informazioni che mi arrivano riguardanti le macchine rosse oppure tutte le Ferrari, a prescindere dalle altre informazioni. Faccio invio e facciamo delle prove. Quindi qui vado a scrivere alfa Giulia bianca, il messaggio corrisponde a questo consumatore, quindi arriva qui in alto, perché appunto vuole sapere tutto quello che riguarda le macchine che hanno Giulia come modello. Non esiste, ma facciamo lancia, punto, Giulia, punto, verde, il messaggio comunque arriva di là. Vediamo invece per quanto riguarda un'alfa Giulia rossa, che cosa succederà mai? Beh, verrà recapitato, recapitato doppio, sia sopra che sotto, perché è effettivamente un messaggio che riguarda un modello Giulia, ma è anche effettivamente un messaggio che riguarda una macchina di colore rosso. Quindi messaggio duplicato per entrambi i consumatori. Vediamo, faccio una ferrari.enzo.verde e il messaggio arriva di qua. Faccio ferrari.enzo.verde.italiana, comunque il messaggio arriva di qua perché abbiamo la configurazione con il cancelletto. Facciamo la controprova, scrivo alfa.giulia.rossa.italiana, non arriva qui perché non rispetta il pattern, in quanto appunto l'asterisco è una parola solo e invece qui noi ne abbiamo digitate quattro. Bene, questi sono un po' i topic all'opera. Andiamo a vedere il codice. Allora, eccoci nell'ambiente di sviluppo, entriamo qui sul publisher per quanto riguarda l'esercizio sui topic. Quindi il publisher, ormai siamo abituati, creiamo la connessione in questo modo, andiamo ad utilizzare un nuovo nome di exchange, che abbiamo chiamato automobili, e che cosa faccio? Gli dico che è tipologia topic, ciclo infinito perché ogni volta voglio farmi chiedere la routine key e quindi utilizzo la routine key per dare come una sorta di attributo al messaggio, per dare una chiave, appunto, un attributo per quanto riguarda l'instradamento, routing-instradamento. Quindi ogni volta vado a chiedere la routine key che vado a prendere e mettere nelle informazioni qui su routine key quando vado a chiamare il basic publish. Il messaggio non metto semplicemente data ora, minuto, secondo in cui premo invio, per cui il messaggio non è nient'altro che l'istante stesso in cui viene inviato, che viene codificato come il ready byte, come al solito. Come in tutti questi esercizi insieme che abbiamo fatto su rabbit e viene fuori scritto in right line, inviato questo messaggio con questa routine key. Per quanto riguarda il subscriber, invece, andiamo ad utilizzare quella che è, anche qui un exchange, ovviamente deve essere coerente, così se non c'è viene creato di tipo topic, non andiamo più ad utilizzare il direct. Ok, creo sempre la connessione e mi metto in ascolto, qui dichiaro in alto, su quale routine key voglio abbonarmi. Ho fatto una piccola convenzione, nel senso che ne posso specificare più di una separandole da virgola. Quindi prendo in input, prendo quello che mi viene dato in input dall'utente, faccio uno split e così viene fuori un array dove c'è ogni virgola e quindi tutti i vari valori, tutte le varie routine key saranno un elemento del mio array. Per ogni elemento, quindi per ogni routine key, vado a farmi il bind nella coda con questo nome, che genero ovviamente in maniera casuale, perché sappiamo che ogni consumatore deve avere una coda, cioè deve usare code con un nome univoco e quindi genero il nome casualmente qui e in questa coda vado a mettere le mie routine key facendo qbind, quindi avrò una coda che si attacca a due routine key. Vi faccio vedere qui su rabbit e il risultato è qualcosa di simile, quindi avrò un consumatore con doppio binding, è sempre una coda con due routine key, quindi riceve i messaggi che rispettano questi topic e invece questo qui è l'altro consumatore che ha una routine key sola. Quello che possiamo poi vedere è che si mette in ascolto dei messaggi all'arrivo del messaggio, niente di particolare, decodifica del messaggio da ready byte in caratteri UTF-8, scrittura sulla console, quindi configurazione del channel con basic consume dove gli diamo la coda, auto hack e le regole di consumo del messaggio, quindi niente di avanzato, nel senso cose già viste negli esercizi precedenti. Bene, per quanto riguarda rabbit and cue, oggi ci fermiamo qui, abbiamo visto che cosa sono i top, come configurare un exchange e la configurazione dei consumer con i caratteri jolly per ricevere i messaggi a cui sono più interessati. Se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, mettimi un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato sull'arrivo di nuovi contenuti. Ciao!